Amici del grande calcio, bentornati su Senza Giri di Parole, io sono Biazzacu e io sono Tazzuno. E non ci sarà la conferenza stampa di Antonio Conte ragazzi, quindi ci consoleremo con la conferenza stampa del nostro avversario di questa settimana, Fonseca. Quali dote del Napoli, le principali caratteristiche del Napoli che affrontiamo domani sera? Sì, Napoli è una squadra fortissima come dimostra la classifica, con un allenatore fortissimo che sta in un buon momento, che vince, che sta in primo posto, arriva qui, motivadissimo per affrontare le nostre squadre. Ma anche noi siamo motivati per giocare questa partita contro una squadra che è ovviamente fortissima, che ha vinto bene le partite, ma come ho detto, per noi è una partita in cui noi siamo anche molto motivati. Peppe Di Stefano Sky Buongiorno mister, buona partita per domani, le chiedo che giorni sono stati per lei, per voi di Milanello, questa incertezza, si gioca o non si gioca, Bologna sì, Bologna no, sarebbe potuta essere gestita in maniera diversa, anche per voi per gli allenamenti, per lavorare magari con continuità meglio, qual è la sua idea che si è fatta, non c'è polemica da parte mia, proprio anche tecnicamente come l'ha vissuta lei? No, è stato difficile gestire questo momento, anche il giorno prima della partita, che non abbiamo giocato, è difficile gestire perché quando abbiamo fatto l'allenamento non sappiamo se giochiamo, se non giochiamo, e se non giochiamo possiamo fare un altro allenamento, sono stati ori difficili, anche perché volevamo giocare, penso che abbiamo stato molto penalizzati per il fatto di non giocare questa partita, una partita come ho già detto, volevamo giocare. Ecco, questa è una bella domanda, il Milan se avesse giocato col Bologna probabilmente, no, era proprio certo, che avrebbe giocato contro il Napoli, Teo Hernandez, e invece col fatto che si è saltata la partita con Bologna, deve scontare la squalifica contro il Napoli, di pro ci sta il fatto che loro non hanno giocato, quindi hanno una settimana, hanno avuto una settimana intera per recuperare, quindi fisicamente stanno meglio rispetto a chi ha giocato tre giorni fa, cioè è un vantaggio o uno svantaggio secondo te, quando stai mettendo sulla bilancia queste due cose? E quello è il tema che poi dovranno affrontare in casa mille. E invece dal punto di vista fisico, tattico, tecnico, come state, vi mancano due pezzi importanti della squadra come Tijani Reinders e Teo vi manca anche da Gabbia. Se ci fa anche un punto, le chiedo su chi potrà recuperare anche nelle prossime settimane, e se è cambiato la sua percezione in riferimento a Camarda, perché è entrato molto bene l'altro giorno, a volte le partite aiutano anche gli allenatori a vedere magari delle cose che in allenamento si vedono meno. Comincio anche per questo motivo, noi volevamo giocare, perché abbiamo adesso squalificati due giocatori importanti, perché male o bene i nostri giocatori prendono cartolina, non è lo stesso sempre così, ma noi abbiamo questi due giocatori squalificati. Dopo, la squadra ha allenato bene, io ho fiducia in tutti i giocatori, ho fiducia in giocatori che giocheranno domani nella posizione di Teo e di Tijani, come tutti gli altri. De Camarda non ha cambiato niente, è entrato. E' stata una botta fortissima, la pubblicità di The Walking Dead è partita. Anche perché poi tu ti devi un po' sforzare per capire le parole di Fonseca, quindi ero proprio concentrato. Però effettivamente, cioè, si fa capire, cioè, è vero che non parla un italiano perfetto, però si capisce, cioè, non so per quale motivo, ma si capisce, cioè, è un italiano abbastanza portoghese, però si capisce. Camarda quindi lo farà giocare? Io l'ho detto. Tu dici che gioca Camarda? Sì, io dico che fa una doppietta al 90. Ah, ok, e poi si gira verso la mamma e la fidanzata e continua l'esultanza che stava facendo. È tutto bene, è un bravo ragazzo che lavora sempre bene, ma ha confermato quello che io penso di Camarda, che è un giocato con un grande futuro. Andrea Ramazzotti, Gazzetta dello Sport. Sì, salve mister. Due cose. La prima, volevo sapere come ha visto in questi giorni di allenamento l'EAO e se ha già deciso se farlo partire dal primo minuto domani sera oppure no. e la seconda, visto che la scorsa settimana, quando ha fatto la vigilia della partita di Champions contro il Brugio, ci ha dato la formazione titolare e ha vinto, non so se è scaramantico o se vuole continuare con questa linea. Grazie. Magari doveva, ma non voglio. Oggi non parlerò di nessuno che giocherà domani. Io ho capito. Non gliela vuole dare la formazione a Conte. Con la curiosità di Léon, Léon ha lavorato come... Chi? Léon. È bello. Però in teoria questa è la pronuncia, quella fatta bene. Léon. Léon. Alain Delon. Léon. Bene come sempre. Non è un problema, non è un caso. E siamo sicuri che lui ritornerà presto a essere quello che aspettiamo, quello che lui aspetta. Se giocherà domani, non voglio dire. Carlo Spasserini, Corriere della Sera. E' bello, ma non giocare contro noi, ma chi mi ha in giro? Non voglio dire. Che non si sa. Le faccio una domanda secca. Il Napoli è la squadra favorita alla vittoria dello Scudetto? È la favorita? Io, questa cosa di favoritismo per me è sempre complicata. È la squadra più forte del campionato? In questo momento è il primo posto, è la più forte. Per me... Non funziona così, però... Napoli è una delle squadre che può vincere il Scudetto. Però hai dato una risposta non alla Tiago Motta, quindi mi è piaciuta questa risposta. Probabilmente avrebbe risposto la stessa cosa se si fosse trattato della sua squadra, quindi sono risposte che posso apprezzare. Corocchila. Buongiorno. Buongiorno. Vorrei tornare... Leao non è un caso, ma allora che cosa non sta funzionando? Perché sta vivendo questo momento così complicato? Perché il lato non lo fa giocare. Perché se fai giocare non c'è nessun problema. No, sono in situazione. No, certo. Era Leao che è stato preso a pomodori in faccia e in testa anche quando giocava, titolare inammovibile. Non penso sia quello il problema di questa stagione di Leao. Sono normale in calcio. Giocano o non giocano. Come ho detto, quando faccio la mia scelta penso sempre in diverse cose. Non ha giocato, magari gioca domani. Per me questo è molto normale. Claudio Raimondi, Medias. Cioè, più che altro farei la domanda al mister, cioè, qual è la motivazione precisa per cui non sta giocando Leao? Perché tornerà proprio contro il Napoli? Perché tornerà proprio contro il Napoli, titolare inammovibile? Ciao mister. Ciao a te. Allora, appena detto, poco fa, per me è una del Napoli delle squadre che può vincere lo scudetto, una delle due squadre. No, io non ho detto le due, una delle squadre. No, io ho detto una delle due squadre. No, no, una delle squadre. Una delle squadre, ecco, infatti, la domanda... Ma è una delle quattro o cinque? La domanda è questa, il Milan. No! Ah, ok, partita pubblica un pochino più normale stavolta. Troppe pubblicità stanno mettendo su queste conferenze stampe. Allora... Fabio Vento è veritato. Perché chi si sta fatta una premessa di paticissima, però vediamo. Appena detto, poco fa, per me è una del Napoli delle squadre che può vincere lo scudetto, una delle due squadre. No, io non ho detto le due, una delle squadre. No, io ho detto una delle due squadre. No, no, una delle squadre che fa... Non si può appiccicare per fare questo siparietto. La domanda è questa. Il Milan è ancora dentro il discorso scudetto. Mi spiego, dopo il 4-4 di ieri sera tra Inter e Juve, si è detto Napoli gode, insomma, un risultato che fa bene al Napoli per lo scudetto. Si parla di Inter, si parla di Napoli, si parla di Juve. Si parla meno di Milan. Allora la domanda è, il Milan è ancora in corsa per lo scudetto? Ah, ma il Milan non ha giocato l'ultima giornata, quindi è normale che non si è parlato di Milan, che dovevano dire? Per me, sì. Perché devono crederci i tifosi? Perché devono crederci? Perché siamo una squadra forte, stiamo in crescita e crediamo che possiamo essere anche una squadra che puoi luttare per il scudetto. Antonio Vitiello. Ha detto quello che doveva dire. Questa è una sensazione, un allenatore che parla della propria squadra dicendo che ha la possibilità di vincere lo scudetto. Salve mister, buongiorno. Buongiorno. Li chiedo, il fatto che Bologna-Milan si recuperi fra quattro mesi, molto probabilmente a febbraio, secondo lei questo va un po' a falsare l'intero campionato? E' una domanda più di campo. Calabria potrebbe essere utilizzato a sinistra, è un'ipotesi ovviamente di campo, visto che non c'è Teo Hernández. Sì, potrebbe. Di Bologna, io non voglio parlare più della partita con Bologna. Siamo totalmente focalizzati sulla partita di domani, è passato, dobbiamo andare avanti. Biscogliosi, Sport Italia. Le domande sono fatte nell'ottica dello scudetto. Mettiamo pure caso che il Milan avesse vinto 10 a 0 con il Bologna, ok? Mettiamo pure caso. Ah, non è che Steve Prim ha 10 passi dagli altri, cioè non cambiava niente questa vittoria. Avrebbero avuto 17 punti, quanti ne ha la Juventus, ma comunque ha 22 punti, no, pure ha 18 l'intero. Cioè, che cosa ha falsato? Non ha falsato niente questa partita con Bologna. Questa è una cosa ridicola che hanno detto proprio durante tutta la settimana. Quindi la dovevano ribadire in conferenza. Salve mister, la riporto un po' all'estate. In tanti, soprattutto tifosi, invocavano sulla panchina del Milan chi lo voleva l'allenatore che domani lei affronterà. Le chiedo se questo le dà una motivazione. Ma che domanda del ca... Eh, ma che domanda del ca... Eh, tutti quanti a Milano invocavano il nome dell'allenatore che affronterete domani. Ma che cazzo da già rispondere? La motivazione anche extra nella gara di domani, oltre alle motivazioni con Milano-Napoli, porta sempre con sé. Grazie. La mia motivazione è di essere l'allenatore di Milano, punto. Grazie. Longo, calciomercato.com Brava. Viste, lei... Ma direi che queste domande inutili che poi giustamente ti danno una risposta che ti brucia. Cioè, tu ti si è bruciata una domanda, puoi fare una strunzata, cioè non ti avrebbe mai risposto seriamente a una domanda del genere. Ma i giornalisti veramente... Ma è un mestiere che devono un attimo aggiustare, eh. Perché hanno perso un pochino il punto di vista, il punto della situazione. Cioè, il giornalista non fa quei... Questo non è il giornalista. Qua non se... Cioè, non è utile il giornalista così. Quando è arrivato sulla panchina del Milan, sta ragionando anche molto in fase. Si è detto, una squadra in crescita. Magari adesso, dopo la partita contro, se non ricordo male, contro l'Udinese. Ha detto, questa è la mia squadra che sa anche soffrire. Mi chiedo, in questa fase, soprattutto alla luce della partita, alla vicina della partita contro il Napoli, cosa si aspetta? Che passetti in più si aspetta dalla sua squadra in termini di concentrazione, fase difensiva, fase offensiva in generale? Che cosa si aspetta di più? In generale si aspetta tante cose. Quando analizziamo le ultime partite, è sempre il nostro focus, vedere quello che noi abbiamo fatto bene e quello che dobbiamo migliorare. Domani sarà una partita diversa per me. Sarà una partita equilibrata, una partita contro una squadra che difende molto bene, però abbiamo preparato la partita pensando in quello che possa essere la partita di domani. La fase difensiva è una cosa che abbiamo migliorato, ha altre cose che possiamo migliorare, ma penso che abbiamo avuto una crescita grande in termini di organizzazione difensiva. Ma quindi vuole fare qualcosa di diverso, dici? Per me sarà una partita diversa, in che senso sarà una partita diversa? Una pioliata che passo dalla divisa a tre, che sto facendo una rimisa di nuovo alla divisa a quattro perché sto incontro il Napoli? Ah sì? Domani. La fase difensiva è una cosa che può migliorare, ma penso che abbiamo avuto una crescita grande in termini di organizzazione difensiva. Offensivamente, per esempio, penso che abbiamo avuto una crescita in queste ultime partite con fasi di possession più forti in questo momento. Magari domani abbiamo bisogno di giocare più negli ultimi 30 metri perché il Napoli è una scadra che pressa alto o che abbassa in blocco basso. E' una cosa che anche dobbiamo migliorare, gli ultimi 30 metri, la nostra scelta, la forma come dobbiamo affrontare un blocco che normalmente si compacta molto basso. Ha sempre cose da migliorare, ma penso che abbiamo migliorato in tante cose. Michael Cuomo, Tele Lombardia. Buon pomeriggio, mister. Grazie. Avere l'asterisco, cioè quella partita in meno che aumenta le distanze, che ti lascia un po' di incertezza... Ma da oggi stavo facendo domande. Ma stanno scherzando. E' un aspetto su cui lavorare, è un aspetto che penalizza, è un aspetto che come si gestisce? Cioè capì, non ha fatto la domanda dicendo che è un campionato falsato, però ha detto che è una cosa che penalizza. Cioè ha cambiato la domanda, è un pochino modificata. Però la domanda è sempre lo stesso. Per me è onestamente lo stesso. Ma che penalizza per i tifosi, per le persone che guardano la classifica, penalizza. Per me non cambia niente. Ma capisco che per le persone che guardano la classifica è diverso. Vabbè, ora si sta un pochino imbonendo la situazione, perché abbiate pazienza. Ma all'ottava giornata di campionato, nona che sia, ma chi se non porta di tre punti in più, tre punti in meno? Alla trentesima io voglio capire perché cominci a vedere questi tre punti in più dove ti possono portare. Ma alla nona giornata di campionato, tre punti in più, tre punti in meno, tu ti metti a fecalco, ti metti a guardare un stadio. Devi farti altre trenta partite. Dove vai? Cosa guardi? Ma infatti, come sei che ha dato la risposta giusta, queste sono domande da tifosi, non sono domande a giornalisti. Per il tifoso che si diverte a guardare la classifica, magari ti cambia, ti penalizza. Ma noi sempre se si partì da Mofone cambia tanto, dal punto di vista di Fonseca non cambia niente. Buonasera mister, voglio chiedere due cose. La prima, con la rosa al completo, senza infortunati, è tutta a disposizione. Per lei, Pulisic, il ruolo ideale qual è? Quello di trequartista, visto che continua a dire che ama quando lui è più in zona centrale. E poi le chiedo un'altra cosa, veloce. di questa, oggi non voglio parlare, in generale voi sapete che mi piace più... Quindi vedremo Pulisic trequartista contro il Napoli, ah... Quando Cristian gioca dentro, interiormente, mi piace più. L'altra cosa, però, dipende se ha visto la partita di ieri sera, inter-Juventus, se l'ha vista. Le chiedo, qual è il suo giudizio? Cioè, lei è del partito, gara spettacolare o gara con tanti errori? Grazie. Ma che... No, vabbè. Che se è bella, sta domanda a altissimo livello, eh. Mi sa, ci sono la stessa domanda da un barista stamattina, quando mi sono aiuto a più il caffè. Che schifizzo, che schifizzo, ragazzi, mamma mia. Gigino Barista ha fatto la stessa domanda. Le due cose, le due cose. Andiamo da Stefano Bressi. Sì, mister, buonasera. Buonasera. Volevo chiederle, volevo tornare un attimo su Leao, perché la sostituzione contro il Brugge, volevo chiedere se alla fine è più una questione di quella copertura magari mancata in occasione del gol subito. Che è stato abbastanza positivo. No, 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 non è stato. Non è stata una scelta di quello che penso che la partita chiedeva in quel momento, non è stata una penalizzazione. No, no, no. Conte, Aria. Ciao Paolo. Conte la settimana scorsa ha detto che chi vince, chi ha vinto, sa che cosa serve per continuare a vincere. Secondo te lo deve sapere più la società o lo deve sapere la squadra con la mentalità, con la convinzione da metterci dentro? Non ho capito bene le domande. Ma ne manchia ci capita domande, posso capire. E noi parliamo italiano. Conte ha detto settimana scorsa che chi ha vinto sa cosa serve per vincere. Per te è una cosa che deve sapere più la società o la squadra deve entrare nella mentalità e nelle convinzioni di poter vincere? Ma Conte ha parlato di Napoli, no? Eh, infatti. Parlava di Juve e parlava di Inter perché si dovevano affrontare. Non mi pare questa cosa. I giornalisti sono veramente qualcosa di imbarazzante. Lui dice che chi ha queste abitudini a vincere può continuare a volerle, ad averle. C'è proprio inventato, ragazzi. Chi non ha seguito la conferenza di Cote, questa è proprio inventatissima, questa direzione. Non capisco bene le domande. Andiamo di qua. Che faccio? Andiamo avanti? L'ignoriamo? La riprendiamo dopo. Scusa, non ho capito bene. Prova a rifarla. Prova a rifarla. Conte. Nota odd, ma è scena. Vabbè, vediamo se a me adesso la fa meritirà la domanda perché è chiaro che... Antonio Conte l'altra volta ha detto, parlando di Juventus e Inter, che sono società e squadre che hanno l'abitudine di vincere, ha detto che chi vince sa cosa serve per vincere, come mentalità, come gioco, come convinzione. Volevo chiedere appunto se il Milan ha queste convinzioni come squadra, come società e se ha la mentalità per poter vincere lo Scudetto. Ha cambiato la domanda. Ha cambiato la domanda. Da quello che aveva detto prima, però gliela facciamo passare. Sì, io ho detto qui che vogliamo continuare a luttare per vincere il Scudetto. Se noi abbiamo questa forza, sono sicuro che sì. Sono sicuro che sì. Quello che è importante, tutto è importante in questo momento. Maurizio. E adesso farei tutti quanti stare zitti. Tutti zitti un attimo e farei l'applauso a... come ti chiami, giornalista? Applauso a X. A tutti quanti, standing ovation, che ci ha fatto perdere 5 minuti nella nostra vita, così. Sì, Cardone. Buon pomeriggio, mister. Ciao. Lei non ha mai cercato alibi, si prende sempre le sue responsabilità, però inevitabilmente domani è forse il suo momento più difficile da un punto di vista dell'indisponibilità, perché ha tante assenze. E si dice sempre che nei momenti di difficoltà viene fuori il gruppo. È una grande risposta di gruppo che serve domani sera più di ogni cosa per battere questo Napoli. Io, come ho detto, sempre ho fiducia in tutti i giocatori. Io, onestamente, non è solo qui, non è solo qui. Io penso così. Non possiamo fare niente con i giocatori che non abbiamo disponibili. Abbiamo altri giocatori. Io mi piace più di sentire che è un'opportunità per i giocatori che normalmente non giocano, hanno la possibilità di giocare. È così che mi piace vedere le cose. Non ci credo. Buona quantità di pubblicità che hanno messo in questo video. KitKat presents. Guardate qua, guardate qua. È disponibile. Abbiamo altri giocatori. Mi piace più di sentire che è un'opportunità per i giocatori che normalmente non giocano, hanno la possibilità di giocare. È così che mi piace vedere le cose. E come ho detto, io credo in tutti i giocatori, ho fiducia in tutti i giocatori. Non è perché non gioca un altro giocatore che non ho fiducia per poter vincere questa partita. Dei giocatori, penso che tutti devono capire che quando siamo una squadra non interessa il nome dei giocatori che giocano. No, siamo più forti e domani abbiamo bisogno di avere una squadra per poter giocare bene contro Napoli. Andiamo dietro. Prego. Milan Press, buongiorno. Buongiorno. Ha parlato poco fa di Calabria possibile sulla sinistra. Io rilancio. Dico, un'alternativa anche per il futuro, vista la posizione che ricopre il nazionale. Può essere Pavlovich? Come un terzino? Come terzino. Sì, perché lui in nazionale serba usa il ruolo di difensore a tre a sinistra. No, ma loro giocano. Usa, magari ai Pokémon. Pavlovich ha usato terzino a sinistra. Con tre. Eh sì, sì. Per volte costruono con il terzo, con un difensore centrale più aperto. Ma onestamente non mi sembra che Pavlovich ha le caratteristiche per essere terzino. Andiamo da Martin Sartorio. Buongiorno mister. Buongiorno. Io torno un attimo sul Napoli. Cosa o chi teme di più degli azzurri? E soprattutto la partita potrebbe essere decisa sugli esterni, sulle corsie? Grazie. Mazzocchi. Sì. Sì, sono le due squadre. Sono il giocatore più decisivo delle due squadre. Napoli ha due giocatori a destra e a sinistra che sono giocatori che creano più per la squadra. Noi abbiamo anche sull'esterno i giocatori importanti che possono decidere di partire. Se non ci sono altre domande facciamo... Che sono? Non lo so. Facciamo l'ultima. Ma qual è il segreto di questa cosa? No, non lo so. Con Carlo Pellegato. Sì, grazie. Due domande. Buongiorno. 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 Senta... Ah, chi si è più bella? Spera, già senti bella l'ora. Chi si fa le domande eccezionali. Grazie. Due domande. Buongiorno. 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 Senta, nel 1987-88 il Milan di Sacchi gioca contro il Napoli. Non era un Milan di Sacchi, aveva già perso due partite, ne aveva pareggiate quattro. Però la partita con Napoli è stata quella che ci ha fatto capire Gullit, eccetera, la forza. Qui leggo la gazzetta. Nasce il Super Milan-Napoli distrutto, dice in quel giorno la Gazzetta dello Sport. Si sogna che il Napoli, la partita con Napoli, possa essere, perché quella con l'Inter è stata un po' assorbita dalla partita con la Fiorentina, la sua partita perché si parla di un Milan di Fonseca fra qualche anno. Abbiamo già parlato di questo. Queen Loacker. Comunque domanda. La domanda è... Qui leggo la gazzetta. Nasce il Super... Come al solito di Pelle Gatti, vedi. C'è forzatissimo sta domanda. Come al solito di questo prima della partita con l'Inter? Siamo parlando di italiani. Io non penso così. Io penso che le vittorie portano fiducia. È più contro le squadre, è più forte. Ma penso che la crescita di una squadra non sta dipendente da una partita. Perché se possiamo fare una partita stupenda domani, ma se dopo ritorniamo, non serve. Quello che mi piace più è vedere se la squadra sta in crescita, se la squadra sta migliorando. Quello è lo più importante. Ma le vittorie ovviamente portano tante fiducia e più contro questo tipo di squadra. Invece voglio chiedere all'allenatore, non allenatore del Milan, mi si metta in cattedra. Gli americani dicono che l'attacco porta i soldi, mentre le difese portano i titoli. Io ho visto l'ultimo weekend, 4-4 ieri, ma in tutta Europa, Norwich, Middlebury, 3-3. Ieri ho visto Monaco, Nizza, retropassaggio e gol di Laborda. 4-0 con la difesa molto alta di tutte e due le squadre. Ma non insegnate più a difendere. Vedo degli errori, retropassaggi, delle cose che tanti anni che seguo il calcio non vedevo prima. Ma voi allenatori, la difesa che fa vincere i titoli, vedo non come una volta. 4-1 il Barcellona con il Bayern. Parlo di squadre forti. Cosa sta succedendo a voi allenatori? Possiamo ficare qui più di due ore a parlare di questo. A lei ha potere di sintesi. Vedo. Però questa generalizzazione è un po' esagerato. Se pensiamo alla Serie A, non possiamo dire che gli allenatori non lavorano difensivamente. Perché se ha un campionato dove si lavora difensivamente, è la Serie A. dove le squadre hanno più incidenza difensiva è qui. Penso che qui si lavora tanto il momento difensivo. Io mi piaceva lavorare più, ma non ho tempo. Perché qui e queste squadre che giocano di tre in tre giorni non hanno tempo per lavorare. Praticamente niente. Preparare strategicamente le partite. E' così. Penso che ha tendenze. Sono tendenze. Amazon è la tua destinazione. Cioè dire che non si lavora più difensivamente perché non si ha tempo. Non sono d'accordo. Non sono d'accordo. Cioè ormai c'è una direzione che il calcio ha preso. Che è il calcio comunque di portare addirittura i terzini come se fossero degli attaccanti aggiunti. E quindi ci sta sempre questa situazione dove tu devi anche costruire rischiando la giocata. E grazie al CAC che non sei più efficace difensivamente come prima. Cioè se la richiesta offensiva è questa, lo sai che ti prendi dei rischi. Cioè non pensi che qualche allenamento in più ti possa far camminare una cosa del genere. Penso che ha tendenze. Sono tendenze adesso in calcio. Ha anche una cosa che per me è importante che è il lavoro individuale. Oggi si lavora tanto la struttura, la linea difensiva, ma manca lavorare un po' individualmente, principalmente sul difensore. E quello che io vedo è che i gol succedono tanti, in quasi tutte le squadre, non di errori di struttura, ma di errori di decisione difensiva. Ha tanti, ha tanti gol che sono così. Ma onestamente penso che oggi è più difficile attaccare perché le squadre difendono meglio che nel passato. Dopo ha una tendenza per me che è l'uomo uomo. Qui è stato sempre chiaro che le squadre qui hanno tante squadre che difendono così. Adesso abbiamo cominciato a vedere anche in momenti, non sempre in tutta la partita, ma hanno oltre squadre, anche grandi squadre, in momenti a giocare così. Io penso che questo anche porta più opportunità in qualche momento della partita. Posso dare un esempio. Barcelona, Bayern, come si dice in Italia? Monaco. Hanno guardato la partita. Bayern, quando è la prima fase, quando è alto, pressiona uomo uomo. Quando è medio bloc, low bloc, non pressiona uomo uomo. Ma questo qui rischia tanto e dopo quello che Barcelona ha fatto è fatto gol in questi momenti. In questi momenti. E allo stesso tempo è più rischioso pressare così? E allo stesso tempo è più situazioni che creano più opportunità? Sì, è vero. Ma in generalità io penso che tutte le squadre difendono meglio che nel passato. È più difficile cercare spazio. Oggi si vede che non sono tutte le squadre che sanno attaccare negli ultimi 30 metri quando le squadre sono basse. perché è difficile cercare spazio. Le squadre sono organizzate e è difficile cercare spazio. Dopo succede partita con tanti gol, è vero, ma una spiegazione chiara e concreta su questo. Io onestamente penso che tutte le squadre difendono meglio che nel passato. Non lo so. Secondo me non è che si difende meglio, si difende in modo diverso. Non meglio. Cioè meglio è una valutazione abbastanza forte per quanto mi riguarda. Cioè non puoi neanche avere la risposta a questa cosa. Non possiamo decidere meglio. In modo diverso sicuramente sì. Si difende in modo completamente diverso rispetto al passato. Ma come si attacca in modo diverso rispetto al passato. Quindi vabbè, come ha detto lui, quasi si può parlare per due ore di questo argomento. Non si arriverà mai alla risposta vera. Magari un giorno ci faremo un video su questa cosa. Però meglio o no? Meglio o no, ma neanche peggio. Semplicemente diverso, io direi. Ma dal punto di vista di un allenatore così tanto contemporaneo, è normale che lui dica meglio. È normalissimo che lui pensi meglio. La cosa che però mi diverte è proprio questo. Che loro capiscono essere delle tendenze storiche, però si arrendono al fatto che sia così. Eh, si arrendono che deve andare così. Ma infatti poi gli allenatori che non si arrendono a questa cosa, vengono pure additati per essere difensivisti, di giocare male, eccetera, eccetera, eccetera. Quello è tutto collegato. Cioè, o fai come dicono le tendenze, oppure stai giocando male, non stai giocando come dovresti, potresti fare meglio, eccetera, eccetera. Ragazzi, questo video finisce qui. Fateci sapere cosa ne pensate voi con un commento. Lasciate un like se il video vi è piaciuto. Iscrivetevi, condividetelo così ci aiutate a crescere come canale. Abbiamo fatto anche il nostro video pre-partita di Milan-Napoli, andatelo a recuperare. E forza Napoli sempre a giù e buona fortuna a Milan, ovviamente.